Mattinata di caos lungo le rive causa un camion in avaria l'automezzo che trasportava alcuni tubi si è visto tagliare la strada da un'autovettura all'altezza dell'incrocio con via Mazzini. Per effetto della brusca frenata il carico si è spostato in avanti andando ad urtare violentemente l'abitacolo e creando una serie di danni alla struttura. Per ovviare la situazione è stato necessario l'intervento di un altro automezzo arrivato dal porto nuovo sul quale il carico è stato spostato. Procedura non semplice che di fatto ha causato la sostanziale impercorribilità del tratto di strada. Sul posto la polizia locale ha avuto il suo bel da fare per svistare il traffico e nel contempo sovrintendere le operazioni di trasbordo dal camion Guasto a quello nuovo. Nel frattempo progressivamente il traffico si è fatto più caotico con code che hanno raggiunto Piazza Venezia. Non c'è mai stato un blocco totale della circolazione però i problemi ci sono stati e come?